portano spaghetti uno diverso all'altro uno col burro senza parmigiano uno col parmigiano senza burro uno con pomodoro e basilico senza burro e senza parmigiano e uno senza spaghetti e fallo come cavolo voi l'altro va bene? ma che stai a dire? guardi io non lo so signor gentilini io non capisco più niente qua dentro il mio vero lavoro non è questo lei lo ama questo lavoro io non lo amo va bene così ecco ma che c'è strigli? ma chi è che grida? siete voi che grida davanti alla sera mi stai rubando tutto nel cervello allora c'è il messaggio tuo di accontento e ti licenzo ti sta bene? e mi licenzi che me ne freca a me mi licenzi come mi licenzi ma mi scusi non è caso di esagerare signor gentilini ricomincio da capo e vado a lavare i piatti vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball non ho afferreto scusi non mi rompa i coglioni ho afferreto benissimo guarda